Nuovi orari e vecchi problemi. Questa la segnalazione del Comitato pendolari siciliani Ciufer che ha annunciato i nuovi orari estivi dei treni in Sicilia operativi dal 13 giugno prossimo e la contemporanea chiusura della linea ferroviaria Catania-Siracusa fino al 31 luglio 2021. Il Comitato evidenzia come fino ad oggi nessuno abbia avvisato l'utenza per un intervento sulla tratta Bicocca-Augusta e poi Augusta-Targia che permetterà la riduzione di tempi di percorrenza del pianeta 10 minuti rispetto a quelli attuali. Non dimenticando l'assurdità di questa decisione, chiudere la linea ferroviaria nel periodo estivo così come è stato fatto nell'estate del 2016 e nel 2017 senza informare l'utenza e c'è di più. Non c'è stato alcun tavolo di confronto con i comitati dei pendolari e le associazioni dei consumatori per evitare i disagi e ottimizzare gli orari. Il Comitato si è detto preoccupato anche dei nuovi orari treno più bus sostitutivo dal 13 giugno perché i tempi di percorrenza sono lunghi per cui il nuovo corso rischia di non essere funzionale. Quale sarà la convenienza e l'utilità del viaggiatore pendolare fare un abbonamento da Messina a Siracusa o da Catania a Siracusa visti i costi del biglietto e i lunghissimi tempi di percorrenza in questo periodo di chiusura? Nessuno dei pendolari abbonati potrà e vorrà viaggiare con questi tempi di percorrenza tenuto conto che gli orari di percorrenza dei bus sostitutivi non potranno mai essere rispettati a differenza degli orari di percorrenza dei treni che viaggiano su rotaie. Il Comitato infine ha rilanciato altri suggerimenti che ottimizzerebbero i disagi e i ritardi tra Catania e Siracusa sia per i pendolari del treno ma anche dell'utenza in generale e turistica che in questi mesi quasi sicuramente affollerà i territori siciliani.